Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato più che all'informazione al ricatto, alla macchina del fango e ai bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che aggirandosi per una Milano allucinata o allucinato per una Milano normale ricostruisce la storia di 50 anni sullo sfondo di un piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di uno pseudo Mussolini. E nell'ombra? Gladio, la P2, l'assassino di Papa Luciani, il colpo di stato di Junio Valerio Borghese, la CIA, i terroristi rossi manovrati dagli uffici affari riservati, 20 anni di stragi e depestaggi, un insieme di fatti inspiegabili che paiono inventati sino a che una trasmissione della BBC non prova che sono veri o almeno che sono ormai confessati dai loro autori. E poi, un cadavere che entra in scena all'improvviso nella più stretta e malfamata via di Milano. Un'esile storia d'amore tra due protagonisti perdenti per natura, un ghostwriter fallito e una ragazza inquietante che per aiutare la famiglia ha abbandonato l'università e si è specializzata nel gossip su affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della settima di Beethoven. Un perfetto manuale per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa se è inventato o semplicemente ripreso dal vivo. Una storia che si svolge nel 92, in cui si prefigurano tanti misteri e follie del ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti pensano che l'incubo sia finito. Ai libri di Carletto, numero zero, il ritorno del professor Umberto Eco, Bonpiani editore. Alla prossima settimana con un nuovo libro, seguici sulla pagina Facebook Carletto e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti e buona lettura da Carletto.